La Regione Abruzzo sta redigendo attraverso un percorso partecipato con i territori il Piano Sociale Regionale 2016-2018. L'assessore regionale al sociale Marinella Sclocco ha esposto alcuni dei dati del profilo sociale regionale e le principali innovazioni previste nella bozza di linee guida del nuovo piano sociale, tra le quali la coincidenza tra gli ambiti sociali e i distretti sanitari attesa da 17 anni. È un piano sociale che io reputo rivoluzionario perché fa fare all'Abruzzo un salto veramente in avanti di anni. Rimette in campo le regole che garantiranno qualità ai servizi, non solo qualità per i cittadini ma anche per i professionisti del sociale. Accrediteremo finalmente anche tutti i servizi sociali, a parte i nidi i servizi sociali non sono accreditati, quindi non ci sono delle regole che stabiliscano come debba essere per esempio un centro anziani, quali sono le figure che ci debbano stare e quindi le professionalità. Finalmente metteremo delle regole, così come metteremo delle regole per l'accesso ai servizi. Il piano sociale di ambito è finanziato direttamente con il fondo sociale regionale 10.800.000 euro, il fondo nazionale politiche sociali, previsti circa 6.800.000 euro per l'Abruzzo, il fondo per le non autosufficienze circa 9 milioni di euro ed i fondi di integrazione sociosanitaria circa 7.800.000 euro. In più il piano sociale di ambito disegna la strategia per l'accesso ai finanziamenti relativi a FSE Inclusione Sociale, Fondo Vita Indipendente, Fondo Famiglia, Fondo Nazionale Lotta alla Povertà ed FSC. No, non sono in previsione dei dettagli, devo dire abbiamo ereditato un dramma perché la poltrona dell'assessore alle politiche sociali aveva 23 milioni di euro di mancati trasferimenti.